Musica Ciao, hai chiamato Radio 1 uguale a 1 Ora non ci siamo Lascia il tuo contributo dopo il segnale acustico Ciao, ciao chiamo da Napoli E oggi sono a casa E sto litigando con mia moglie Francesca, io non è che che ne ho letto tutto sponcicolo Maria, è ora di basta Io sono un biologo E ho scritto vari trattati Sul pericolo di estinzione Dei cetacei nell'Adriatico E altre pubblicazioni varie Francesca, va a comprare il Cirenello Maria, è ora di basta Dicevo io ho una laurea E anche un master al delfinare di Boston Ora però mi piacerebbe occuparmi Di una bella legge nuova sul divorzio Sai, i problemi dei figli a carico Maro, Maro Francesca Ma che hai spostato la foto di Targenaro Maria, è ora di basta Sul sulto a cinque palle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti